una tecnica quasi sconosciuta è quella di utilizzare un pop instance che cos'è il pop instance e quando si utilizza mettiamo a caso di avere una situazione del genere dove abbiamo una nostra geometria che fa da emettitore di molte particelle ok quindi abbiamo questa situazione qui logicamente io per vedere le mie particelle o per esportarle per esempio per altri software come per esempio Maya ad esempio o Cinema 4D o 3ds Max l'ideale è magari portarle fuori in un formato di interscambio come potrebbe essere l'Alembic ad esempio per far questo però dovrei convertire la cosa migliore è andare a convertire queste particelle in geometria oppure questa mia mi trovo nella situazione dove devo comunque andare ad associare una geometria ad ogni singolo punto per far questo abbiamo visto che con un semplice copy to point posso andare ad associare una qualsiasi geometria a questi punti ora non guardiamo che non abbiamo una scala differente eccetera però abbiamo una scala uguale e tutte girano allo stesso identico modo però vediamo che anche il lavoro in viewport è molto pesante rispetto ad avere una cache fatta in alcuni casi è sicuramente ottimale andare a fare prima una cache di tale emissione per poi dopo andare ad associare uno copy to points e poi dopo andare a fare nuovamente una cache o un export in Alembic ad esempio per poterli gestire in altri software ma vediamo che anche avendo la cache sotto delle particles questa operazione è come dire time dependent infatti notiamo che qui abbiamo il simbolo dell'orologio come ad esempio anche qui nelle particles e notiamo anche che abbiamo qui time dependent yes questo vuol dire che impiegherà x tempo per poter andare a realizzare tale effetto o comunque rigenerare la nostra viewport all'interno però del pop net abbiamo comunque della dop abbiamo la possibilità di utilizzare un point instance il point instance non è nient'altro che una trasposizione di una geometria esterna in questo caso il mio torus all'interno della mia pop net però senza che esse vengano renderizzate questo cosa vuol dire? vuol dire che io posso anche andare a presentare la simulazione questo vuol dire che all'interno della mia pop net io posso riportare queste mie geometrie che vedo qui in un colore abbastanza scuro ok? in un nero molto scuro posso portarle qua dentro posso vedere come esse si comportano ovviamente se io renderizzo il sistema solo delle pop net quindi senza andare fino a questo nodo qui renderizzo in realtà soltanto i punti non renderizzo la geometria però questo mi permette se io mi sposto nel tempo vedo già che è molto più veloce rispetto al copy to points che ho esternamente e questo per esempio mi permette di avere subito un'idea di quello che andrò a realizzare successivamente perché io qua dentro posso avere una chiamiamola una preview di quello che poi dopo andrò a realizzare successivamente in fase di export andando ad associare per esempio un copy to point o per esempio un for each loop con all'interno copy to points e poi una geometria e poter quindi capire se esse funzionano oppure no allo stesso tempo io qua dentro potrei anche utilizzare una scala uniforme oppure utilizzare un VEX quindi ho possibilità di valutare subito come viene fuori il mio effetto senza risparmiare un po' di tempo già in preview rispetto che doverlo comunque calcolare ed esportare grazie grazie grazie